E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui perché, come tutti i venerdì, oramai sono tre venerdì e vi voglio parlare di questo. Come tutti questi tre venerdì, e ce ne saranno altri, ieri sera mi sono seduto sul divano a vedere Cio Darwin sul canale 5, condotto da Bonolis e Laurinti. Quindi, finché, intanto questa, come vi volevo dire anche che questa puntata non me la ricordavo per niente, nonostante l'ho vista, cioè io ho visto tutte le puntate, quando erano in prima tv, quando le misero su, che le fecero vedere su canale 5. Nonostante questo, questa puntata non me la ricordavo, e credo sia per il tempo alla fine, perché se non mi sbaglio è stata girata l'anno scorso, quindi se non mi ricordo male era in estate le fecero vedere in prima tv. Ma comunque, ieri mi sono seduto sul divano e ho visto questa qua, finché hanno annunciato le due squadre, web e tv, quindi le persone del web, tra cui erano quasi tutti youtuber, che la maggior parte conosco e seguo, mentre la tv, conduttori o persone che lavorano in televisione. Finché è successo questo, e ho detto domani, cioè oggi, per tutti, devo fare il video. Finché, e ora vi mostro questa scena che ho preso da Medaset Play, finché è successo questo. Questo è il nostro mondo, non c'era spazio nell'ora e ce ne saremmo creati uno nostro sul telefonino, e per questo abbiamo scelto. E ho detto, è vero, perché io pure sono un ragazzo normale alla fine, conosco molte persone che se tu gli dici, hai visto per esempio, ciao Darwin, no, sono stato al telefono. E molte persone fanno questo, ci sono persone come anche youtuber, che non hanno neanche la tv in casa, lo so, perché io sto molto tempo su youtube, quindi non mi perdo mai un video, dopo pranzo è festa per me, perché la maggior parte dei youtuber che seguo, e mi pare che ci piace anche un video, di persone che seguo, se non l'ho fatto, lo farò in questi giorni, dopo vado a controllare, quindi la maggior parte di quello che seguo, fa i video dopo pranzo, quindi li guardo sempre. Ed è vero, per me credo sia anche una ragione, perché sono qui, l'unico motivo, perché stimo molto la televisione, sinceramente, perché ci sono persone che sono diventate, parlando anche come Bonolis, Laurinti, che tutti i giorni sono, cioè, vabbè, non in diretta, ma alla fine, lì a, che la media, se tu la Rai o qualunque altra casa della tv, mette dei programmi dove le persone seguono. Contando che, ora, non è ancora, credo, niente di certo, ma ho sentito, che, eh, sia la Rai, che la media, se si vuole allargare in tutta Europa, o credo ancora in tutto il mondo, non lo so, però, sono grandi passi, e, eh, con, visto che io seguo, come voi sapete, anche il wrestling, conto molto, conto molto anche i canali americani, e, lì, sono, totalmente, eh, totalmente diverso dalla, dalla tv italiana, però, oggi non sono qui per parlare di questo, volevo fare questo video, proprio perché, mi è venuto all'istante, quando ho sentito quella frase, ho detto, domani devo fare il video. Spero che vi sia piaciuto, vi ricordo i tre prossimi appuntamenti di live, i miei, credo, i primi, anzi no, il secondo, o il terzo, il terzo, il terzo, il terzo. Eh, i prossimi appuntamenti sono, mercoledì, eh, non so che ora, ma vi aggiorno, e, sabato e domenica, perché, mercoledì, ci sarà il match di NXT TakeOver, mentre, sabato e domenica, ci sono, le, la, la, totale, simulazione, di, Wrestlemania 37, eh, la giocherò con voi, qui in diretta, su, eh, su, YouTube, e, per molti che mi stanno chiedendo, eh, può darsi che aprirò un canale Twitch, anche se l'avevo già aperto, ci feci una live di due minuti, poi, vedi che non entrava nessuno, e l'ho finito la live. Eh, quindi, eh, credo che lo aprirò, però, più là. Quindi, qui è tutto, ci vediamo domani, eh, anzi no, lunedì, con la live reaction di, della gara. MotoGP, che ci saranno domani, in diretta, anche su TV8, quindi, per chi non ha Skype, può vederle lì, lo stesso, in diretto, e niente. Quindi, ci vediamo, lunedì, per la live reaction della MotoGP. Ciao, ciao!